Tra i protagonisti di Breganze Monza 4 a 3 c'è stato anche Filippo Compagno, la prima volta da avversario a Breganze. Com'è stata? Beh, è un'esperienza diversa e bella, nel senso che mi sono divertito, è stata una bella partita. È stata un'esperienza diversa. Io quando entro in campo guardo la maglia e poi gioco, poi fuori dal campo sono tutti amici ma dentro tutti i rivali. È normale. Stai facendo una buona stagione a Monza, sei soddisfatto delle tue esperienze, delle tue prestazioni finora? Sì, 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 a Monza mi trovo molto bene, ho trovato il giusto fine con i compagni. Certo possiamo fare qualcosa di più, però come diceva qua è problematico anche per gli allenamenti perché purtroppo per fortuna ne facciamo due. Però ho fatto un inizio gara un po' così così, esperienza nuova, ragazzi nuovi, società nuova, però adesso mi sto abbandonando bene e speriamo di finire bene il campionato. Hai anche un importante impegno con il lavoro, devi riuscire a conciliarlo con lo sport, ma hai una passione infinita e questo forse ti sostiene e ti consente di fare anche questi sacrifici, vero? Esatto, è quello che mi fa andare avanti. C'è molto di peggio che fare gli allenamenti, sì, le ore che faccio, ma le faccio molto volentieri perché è una società che merita e ci tengo insomma. Perché l'hockey è parte fondamentale della tua vita, giusto? Sì, diciamo di sì. Fondamentale forse è un tantino esagerato, però è sempre stata la passione sin da piccolo e finché ho l'età e la voglia e la capacità di mantenerla la mantengo molto volentieri. Giusto, molto equilibrata come dichiarazione. Grazie Filippo, in bocca al lupo. Ciao. Grazie.